È terra nostra, il posto più vicino al paradiso. Femminicidi, violenza sulle donne, divorzi. Sembra lo spazio degli avvocati. Ma è una triste realtà che segna e insanguina la nostra società. La insanguina e la anichilisce. La insanguina e distrugge l'avvenire di tante ragazze e di tanti ragazzi. C'è da chiedersi come ciò sia possibile dopo duemila anni di cristianesimo che dell'amore ha fatto la sua bandiera. C'è da chiedersi chi aiuta noi genitori ad educare all'amore i nostri figli. C'è da chiedersi se la nostra chiesa, quella di Belluno e Feltre, si è posta il problema. È convinzione comune alla scienza e agli educatori che i bambini dovrebbero fin da due anni imparare e sperimentare cosa significa essere amati e amare nella società. La chiesa che fa catechismo non può ignorare il problema. Ignorerebbe la sua stessa essenza. Il catechismo, dalla prima elementare, io credo, dovrebbe articolarsi e scorrere lungo i percorsi dell'amore facendo memoria di chi ne ha vissuta l'esperienza. Dai santi alle istituzioni caricatevoli, dagli ospedali alla scuola, dagli spazi di relazione alla chiesa. E facendo memoria ed esperienza di tutte le sue articolazioni, dalla bellezza alla verità, dal rispetto della libertà alla tenerezza, alla compassione. E facendo memoria ovviamente di chi l'amore l'ha calpestato. Solo al culmine di questa storia si dovrebbe proporre ai ragazzi e alle ragazze la conoscenza profonda di chi questa storia dell'amore l'ha iniziata. Cristo Gesù mi ha iniziato a toci Ma